Buongiorno ragazzi, con questo gruppo di video lezioni analizzeremo la famosa lettera del 4 dicembre, quella in cui Jacopo racconta a Lorenzo Alderani il suo incontro con il poeta Giuseppe Parini. Partiamo da una premessa. La seconda parte del romanzo descrive i viaggi in Italia compiuti da Jacopo. A Lorenzo ha narrato le varie tappe intraprese e in particolare si è soffermato sulla sua visita a Firenze dove ha potuto vedere le tombe dei grandi italiani collocate dentro la basilica di Santa Croce. Si tratta di un elemento che ritroveremo nel carme dei sepolcri. La scelta di allontanarsi dai Colli Eugani dove inizialmente aveva detto di voler restare nasce sia da una necessità politica estremamente forte ma anche alla volontà di allontanarsi da Teresa, la donna amata, la quale tuttavia per rispetto all'amore del padre ha deciso di accondiscendere al matrimonio con Odoardo, scelto appunto dal padre, nonostante non ami quest'uomo. A Milano Jacopo incontra appunto il poeta Parini, in particolare si trovano nei giardini di Porta orientale, in un boschetto di Tigli. L'intera lettera, l'intero episodio meglio, è un dialogo a due voci sulle sorti dell'Italia che poi si estende a riflessioni sulla storia umana e sui rapporti fra potere e rivoluzione, fra ideale e reale. Cominciamo a leggere e poi analizziamo. In questo primo video ci soffermeremo sulla figura di Giuseppe Parini così come Foscolo vuole consegnarla alle future generazioni e sulla situazione dell'Italia napoleonica così come viene vista da Foscolo in questo periodo. Iersera dunque io passeggiava con quel vecchio venerando nel soborgo orientale della città sotto un boschetto di Tigli. Egli si sosteneva da una parte sul mio braccio, dall'altra sul suo bastone. E talora guardava gli storpi suoi piedi e poi, senza dire parola, volgevasi a me, quasi si dolesse di quella sua infermità e mi ringraziasse della pazienza con la quale io lo accompagnava. S'assise sopra uno di quei sedili e io con lui. Il suo servo ci stava poco discosto. Il Parini è il personaggio più dignitoso e più eloquente che io mi abbia mai conosciuto e d'altronde un profondo, generoso, meditato dolore a chi non dà somma eloquenza. Mi parlò a lungo della sua patria e fremeva e per le antiche tirannidi e per la nuova licenza. Le lettere prostituite, prostituite, tutte le passioni languenti e degenerate in una indolente e vilissima corruzione. Non più la sacra ospitalità, non la benevolenza, non più l'amore filiale. E poi mi tesseva gli annali recenti e i delitti di tanti omiciattoli, chi io degnerei di nominare, se le loro scellerataggini mostrassero il vigore d'animo. Non dirò di Silla e di Catilina, ma di quegli animosi masnadieri che affrontano il misfatto quantunque si vedano presso il patibolo. Ma ladroncelli tremanti, saccenti, più onesto insomma è tacerne. Partiamo dal ritratto di Parini. Parini viene definito innanzitutto vecchio venerando, quindi un anziano degno di ammirazione, addirittura di venerazione. E poi viene tratteggiato il suo ritratto che si sofferma sulla sua infermità fisica, la sua zoppia. Un anziano che si sostiene da una parte sul braccio di un giovane, che rappresenta quasi il suo alter ego nel futuro o nel passato, la prospettiva di quel ciclo delle generazioni, che permette agli anziani di comunicare la propria esperienza ai giovani che potranno farne tesoro e dall'altra si appoggia sul bastone. Talvolta si sofferma a guardare i piedi storpi e quasi si duole, sembra quasi dolersi di quelle infermità e con atteggiamento umile sembra quasi ringraziare Jacopo della pazienza con la quale lo accompagna, della lentezza, della camminata, della necessità di tempi lunghi, i tempi della vecchiaia. Poi il Parini si siede su uno dei sedili e lontano lo attende il servo. Viene poi detto che il Parini è il personaggio più dignitoso e più eloquente che Jacopo, e quindi Foscolo, abbia mai conosciuto. Ha vissuto un profondo, generoso e meditato dolore che non può che dare somma eloquenza. Attraverso il dolore, attraverso la sofferenza, si matura una maggiore consapevolezza, una maggiore attenzione agli altri. Quando Foscolo descrive Parini, qui in maniera particolare perché ne offre il ritratto, ma nell'intera lettera, nello scambio che Jacopo ha con Parini, Foscolo sostanzialmente fonda quel mito pariniano che sarà poi trasmesso alle generazioni del Rinascimento. Inoltre, in questo modo, Foscolo istituisce un legame di eredità di tipo morale fra se stesso nelle vesti di Jacopo e Parini. A questa prima rappresentazione di questo uomo così venerando, dignitoso ed eloquente, segue una descrizione indiretta dell'Italia napoleonica. Parini parlò a lungo a Jacopo della patria e quindi qui entriamo nel tema patriottico e fremeva, prestate attenzione a questo verbo perché è un fremere di sdegno dell'uomo consapevole, dell'uomo dignitoso, dell'uomo che non è sceso a compromessi, dell'uomo che possiede una dignità morale superiore e che di fronte agli scempi politici freme di sdegno. Quali sono i temi sostanzialmente, gli elementi di questa Italia napoleonica? C'è innanzitutto la licenza, ossia il fatto che la libertà rivoluzionaria sia degenerata negli arbitri dei singoli amministratori, negli arbitri dei vincitori che spadroneggiano al pari dei tiranni. L'altro elemento è quello delle lettere prostituite, cioè del fatto che gli uomini di cultura vendano la propria opera, le proprie capacità intellettive al potere, come delle prostitute, si svendono, fanno pagare la propria opera in cambio di favori. C'è poi lo spegnimento dello spirito eroico, le passioni sono languenti e quindi ormai spente, sciape, non più dotate di quel furore, di quella capacità d'azione eroica che invece erano presenti nel momento della rivoluzione, quando gli ideali non erano ancora stati traditi. C'è inoltre un diffondersi della passività, le passioni sono languenti e degenerate e c'è, esiste, è costante e diffusa una vilissima corruzione. Inoltre sono completamente scomparsi i valori basilari, quelli fondativi della civiltà, la sacra ospitalità, la benevolenza, l'amore filiale, sono ormai perduti e sono perduti in maniera apparentemente perlomeno definitiva. Quello che accade negli annali recenti, cioè nell'Italia del tempo presente, sono delitti di omiciattoli e Jacopo, Jacopo Foscolo, compie questa riflessione. Lui si degnerebbe anche di nominare questi delitti e i loro autori, in particolare i loro autori, se queste scellerataggini mostrassero vigore d'animo. Si tratta di una tematica già presente nella letteratura antica e raffigurata proprio dalle immagini di Silla e di Catilina. Che cosa intende dire Foscolo? Che anche nel delitto, anche nello scempio, anche nella violenza e nella crudeltà, sono possibili grandezze d'animo. Silla e Catilina erano fin dagli autori antichi rappresentati in questo modo, come uomini scellerati e crudeli, ma dotati comunque di grandezza d'animo. Ecco, dice Jacopo, se questi uomini che popolano, che animano il palcoscenico della vita contemporanea, fossero sì dei delituosi, ma avessero vigore d'animo, se non come Silla o Catilina, quindi se non come incarnazione degli eroi neri, perlomeno come quei rei, come quei colpevoli che affrontano il delitto con coraggio, nonostante siano consapevoli del rischio di morte, e quindi con un vigor d'animo, con un forte sentire anche nella malvagità, allora sarebbero degni di ricordo, sarebbero degni di dimensione. Ma invece nel mondo contemporaneo abbiamo soltanto degli omuncoli, veniva appunto segnalato dal termine omiciattoli, che sono solo ladroncelli tremanti e saccenti, tanto che cacerne è più onesto che parlarne. Indirettamente sembrano riecheggiare le parole dantesche riferite agli ignavi, non ragioniamo di lor, ma guarda e passa. Di fronte a omuncoli di questo livello, incapaci anche nel delitto, anche nella crudeltà, di dimostrare coraggio, di dimostrare grandiosità, allora è più dignitoso, più morale tacere i loro nomi, non soffermarsi nemmeno a parlarne. La discussione procederà ampliandosi all'interno appunto di quella tematica sulla sulle sorti dell'Italia, sui rapporti fra potere e rivoluzione e in generale sulla storia umana. In particolare i due affronteranno anche la tematica del suicidio, che sappiamo sarà l'atto estremo, il gesto ultimo compiuto da Jacopo. Chiaramente di fronte al suicidio i due avranno opinioni differenti, non solo perché Jacopo è un giovane mentre Parini è ormai un anziano, ma perché dobbiamo ricordare che Parini era un sacerdote, quindi un uomo di chiesa che non può che guardare al suicidio come un peccato di una gravità enorme. Mentre per il laico Jacopo il suicidio è invece, lo abbiamo già detto, un'affermazione di sé. Affronteremo queste tematiche nei prossimi video.